Ah ma non è possibile, ancora lei? Cosa ci fa qui stavolta? Sì dottore ma lei faccia qualcosa per questo suo problema di aggressività Comunque Sono qui perché Sto veramente male stavolta Ma proprio male, lei non ha idea Mi lasci indovinare, non le sono piaciuti i film di Star Trek Eh sì sì, ci scherzi su, mi raccomando Ma non lo capisce che io sto male? È da quando è uscito Avengers Endgame mesi fa Che io non riesco a capacitarmi del fatto che Iron Man non ci sia più Ma lei lo capisce questo? Ma lei è veramente incorreggibile, davvero Ma se la prende proprio per queste cose Comunque senta un po' De Agostini sta rilasciando delle uscite Per costruire una statua di Iron Man Che sicuramente le farà capire che non è morto Sta bene e anzi può anche tenerlo in salotto se vuole Mi scusi dottore ma lei è pagato a De Agostini Perché ogni volta la soluzione è qualcosa di De Agostini Senta, si levi dalle scatole che ho altri pazienti E comunque vorrei farle notare che se a morire fosse stato occhio di falco Non avrebbe fatto un plissé Quindi faccia in serio e fuori da qui Va bene, va bene, però davvero lei deve fare qualcosa Perché non è normale questa poca voglia di lavorare E che cos'è allora? Buongiorno a tutti sono sempre Victor Laslo88 E sono felice nel potervi dire che sono tornato a collaborare con De Agostini Stavolta per una collezione veramente esclusiva che riguarda Iron Man Infatti mi sono state inviate le prime tre uscite dell'armatura Mark III di Iron Man da costruire Vedete questa è quella che contiene i pezzi per il casco Poi abbiamo uno dei piedi e poi anche uno dei guanti E sono piuttosto semplici da costruire anche se contengono moltissimi pezzi E ogni uscita è corredata da un fascicolo Vedete qui abbiamo questi fascicoli che contengono la storia di Iron Man Sia dal punto di vista cinematografico sia dal punto di vista fumettistico E in ognuno abbiamo anche le pratiche istruzioni per montare i vari pezzi E come vedete sono molto molto dettagliati Se adorate Iron Man sicuramente questa collezione fa per voi Sotto tantissimi punti di vista perché potete imparare a conoscere approfonditamente il personaggio E soprattutto l'armatura è qualcosa di straordinario Una volta completata la statua misura 60 cm in altezza E ha 52 articolazioni snodabili che permettono di vedere meccanismi interni Ed è dotata di luci LED in corrispondenza degli occhi del casco, del reattore ARC Dei riflettori delle mani e degli stivali Quindi è qualcosa di spettacolare Stiamo parlando di una statua in edizione limitata veramente pazzesca Se siete dei collezionisti soprattutto non potete non averla Perché una cosa del genere in commercio normalmente Senza queste uscite non la trovate E è disponibile la collezione online Se vi abbonate riceverete comodamente a casa le varie uscite nel corso del tempo Trovate il link in descrizione qui sotto Per chi si abbona sono previsti anche dei gadget omaggio riguardanti naturalmente Iron Man Ora io sono piuttosto scarso quando si tratta di manualità E infatti quando ho visto come era composto il tutto ho pensato Oddio e mo questo chi lo monta Allora ho chiesto se fosse difficile a montare E in realtà con le istruzioni è piuttosto semplice Per cui andiamo a montare il casco Sì io con tutte queste viti, questi pezzi non ce la faccio Senta ero riuscito a convincere ad aiutarmi Può fare qualcosa per favore? Mettiamo bene in chiaro una cosa Ho accettato di aiutarti così la smetti di venire in studio a rompermi le scatole E poi perché modestamente sono un maestro nel montaggio di statue Allora iniziamo Buongiorno e complimenti per l'ottima scelta E grazie Posizione a vite il perno 1H all'interno della parte principale del casco 1C con due viti M Posizione gruppo letto nel faro superiore del casco e fissolo in posizione con una vite M Inserisci la base del viso E lo faccia lei, lo faccia lei avanti Senti vengo io, vieni qua tu dai Su, ho chiesto coso qui Buongiorno e complimenti per l'ottima scelta E grazie Posizione a vite Posizione il gruppo Fatto Verifica il portavattere Fatto Posizione le... Fatto Ed eccolo qui il casco di Ironman Con tanto di luci led che si regolano attraverso questa manopola E' veramente fantastico Poi la maschera del casco è calamitata Vedete E quindi si può togliere e rimettere in un secondo E' qualcosa di semplicemente spettacolare Ci sono anche un piede e una mano Però sono meno suggestivi da montati singolarmente Questo invece è veramente bello Infatti penso che per il momento lo metterò qua dietro Lo vedrete spesso nei video Non è stato difficile montare il casco E tra l'altro segnalo che nella confezione della prima uscita C'è questo pratico cacciavite Con la punta calamitata Che permette di prendere le viti Fissarle subito all'estremità E avvitarle facilmente Se sono riuscito a farlo io Che sono un caprone in queste cose Vi assicuro che potrebbe farlo chiunque Vi ricordo che una volta finita la statua Misura 60 cm Il peso è importante Perché come potete vedere E' tutto in metallo Sono materiali spettacolari E le luci led sono sicuramente belle da vedere Quindi è qualcosa di imperdibile Io vi rimando ancora una volta Il link che trovate in descrizione Per abbonarvi all'intera collezione Perché è un oggetto sicuramente splendido Quindi io ringrazio ancora una volta De Agostini per avermi chiesto di collaborare Io vi abbraccio Vi ringrazio E noi ci vediamo al prossimo Voi blog Ciao a tutti Ciao a tutti